Buonasera a tutti, miei saluti agli eccellenti ospiti, a partire dal Presidente regionale del CONI, Dottor Angelo Giliberto, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Unisalento, che è in remoto, Professor Luigi Melica, al Presidente di Corso di Laura di Diritto e Management dello Sport di Unisalento, Professor Attilio Pisano, e alle relatrici, Emanuele l'Avvocato Emanuele Adeleo, l'Avvocato Patrizia Tamburrano, l'Avvocato Lucia Bianco. Ovviamente miei saluti ai presenti in sala e a quanti sono presenti in remoto. Argomento sulla riforma dello sport, che doveva entrare in vigore il primo gennaio, ma come ben sapete, o ben sappiamo, è stata rinviata il primo luglio 2023, con il Mille Prologhe. Io non mi dilungo su questo argomento perché ci sa chi lo farà dopo. Ovviamente io non posso che non essere preoccupato perché interfacciandomi con molti dirigenti di associazioni sportive vedo molta superficialità su quello che è l'argomento. Io mi auguro che qualcosa inizi a cambiare più che altro nell'apprendere e comprendere quello che è veramente questa riforma. Do la parola al Presidente del CONI, il Dottor Giliberto, per i saluti istituzionali. Grazie. Non voglio stravolgere la scaletta, ma ho fatto un corso sul protocollo. Sarebbe dovuto toccare al padrone di casa iniziare. Però qui siamo fra amici e saluto sia Tilio Pisano che Luigi Melica che collabora con noi al CONI, ma abbiamo una partnership importante con questa università. L'argomento è quello spinoso. Lui, la mia sentinella sul territorio, fa il politico anche e quindi non si sbilancia. Lo dico io, questa è una legge sbagliata. E vi spiego anche perché. È una legge sbagliata perché non è fatta dall'interno, è stata imposta da persone che probabilmente conoscono poco il nostro mondo. Dico a voi e dico a tutti che quando si vogliono cambiare le cose ci sono due sistemi, due modi per farlo. Uno sono appunto le riforme e l'altro è la guerra. In un caso e nell'altro ci vogliono mezzi, risorse umane e risorse economiche. Nel caso nostro non ci sono né le risorse economiche e tantomeno le risorse umane. Perché in questa facoltà è passato chi ha scritto quella legge che è un nostro conterraneo, che ora non c'è più al Dipartimento. Quindi questa legge è sbagliata, è stata scritta male ed applicata peggio. Ora non la voglio fare lunga e non voglio neanche calare tanti assi, ma rimanere sull'argomento e ringraziando le tre relatrici che da ora in poi saranno mie collaboratrici, perché sono ostinate. Chi fa la riforma la deve spiegare, non noi che la stiamo subendo. Noi stiamo facendo un di più. Oggi se uso il se e il condizionale, il primo luglio entra in vigore questo decreto attuativo che metterà tutte le ASD, secondo me, in ginocchio, e cioè quello del lavoro sportivo e del vincolo sportivo, ci sarà poco da fare. Orbene, che cosa voglio dire? Voglio dire che tutti quanti voi che fate parte di una ASD, dal primo di luglio dovete scrivere nel vostro statuto, tanto per incominciare lo dovete modificare, se siete a prevalenza sportiva o a prevalenza economica. Poi vedremo dopo, forse ve lo spiegheranno loro, chi verrà a controllare. Però rimane che dovete sostenere delle spese e soprattutto le federazioni sportive nazionali, soprattutto le discipline associate. Nei loro statuti e regolamenti devono cambiare e dire io sono questo, faccio questo. Poi non so come vi faranno a spiegare chi è il lavoratore sportivo, perché poi di tutta questa cosa chi l'ha messa in giro o chi la farà attuare dice che il lavoratore sportivo si può essere quello che sta tirando la sabbia al beach volley o magari l'atleta. Gli amministrativi no, perché? I professionisti no, perché? Quindi io pensavo di dare spunti di riflessione a chi frequenta questa facoltà, però ovviamente la do a distanza. Però vedete, siccome proprio a distanza ed è registrata, io ho una cosa per paura anche di non dire castronerie, me la sono registrata. Se tutto dovesse andare che il primo luglio passa questa cosa, e ci sono forti dubbi, forse andrà il primo gennaio 20-24, ma non cambia niente, i criteri e i limiti saranno definiti con apposito decreto di prossima emanazione dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Che significa? Lo dico alle mie colleghe, lo dico a loro che tenacemente vogliono spiegare questa cosa, che di fatto mette in ginocchio il mondo dello sport. Questa è la realtà. Lasciamo stare tutti i decreti attuativi precedenti, ma giusto per chiudere, per farvi comprendere a chi è presenza e a chi è in distanza, come funzionava e come dovrebbe funzionare la cosa, ci sono quello che vi ho detto io, l'ordinamento sportivo, le federazioni, le discipline, gli enti, gli atleti, perché poi effettivamente la legge c'era, quella Melandri, Pescante, Melandri, bastava modificare quella senza fare tutto questo. Lino Banfi lo chiamerebbe in una certa maniera, qua non si può dire questa confusione. Signori miei, ora subiamo. Però il CONI, che elegge 65 consiglieri derivanti da quella legge lì, che vuole la rappresentanza delle atlete, dei tecnici, dei dirigenti, noi abbiamo una rappresentanza che va oltre quella di genere, nel governo questa non c'è, questa è la realtà, si riuniva, formulava una proposta, lo mandava al ministero vigilante, controllava e diceva sì è in linea con la Costituzione, no, non è in linea con la Costituzione, fai questa modifica, ritornava indietro, veniva modificato, ritornava e si applicava e si faceva la legge dello sport. Questo è quello che ha funzionato fino a poco tempo fa. Questo meccanismo, venendo al nostro ambiente, è quello sportivo del calcio, c'è stato un take, proprio quel fallo odioso da dietro, che è stato per fortuna sanzionato con il cartellino rosso, non si può fare più, perché se lo fai vai fuori, e si è entrata la politica, ha voluto fare questa riforma. E ce ne sono tante, quelle del vincolo sportivo è ancora peggio, poi magari le mie colleghe vi diranno che un lavoratore sportivo il contratto di lavoro è di cinque anni, anche questa è un po' anomala. Però, ripeto, noi viviamo in Italia, siamo qui, è il più bel paese, tutti vogliono venire qui, io venendo qui mi sono goduto la scaletta del mio termometro, della macchina, che sono partito a 22 gradi e sono arrivato a 29, è bello, è tutto bello, però poi alla fine, come diceva quello, bisogna mettere a terra tutte le cose belle e per metterle a terra ci vogliono i quattrini, i soldi, gli euro, come volete voi. Questa è la realtà, il quadro generale, quindi io alle mie colleghe le ringrazio, perché penso che potranno essere molto più specifiche su quello che sta accadendo o quello che dovrebbe funzionare. Però dal primo di luglio, se va in vigore questa legge, dovete modificare gli statuti, dovete stare attenti, perché l'altra, e no questa ci vuole, la lino Banfi, l'altra strupidata che hanno fatto è quella del registro, perché questa legge non è che ha riformato, ha quadruplicato le cose, ha tolto con i servizi, ha fatto dipartimento, che ha dato alla società in house il ministero, quindi tre, e ha fatto il ministro senza portafoglio, perché i soldi, il portafoglio, c'era il ministero delle finanze. Questo è il quadro. E quindi anche il discorso del registro, c'è il registro CONI, che attualmente, perché per la carta olimpica chi è che dice chi fa sport o no? È il CONI, noi abbiamo i rapporti con le federazioni, non lo può fare, che so, il ministero o una società sportiva o una società di servizi. C'è quello del ministero che si interfaccerà con l'agenzia delle entrate, c'è quello del RUNS e poi quello del CIP. Quindi, da uno, quattro. Questo è quello che è successo. Beh, scusatemi se io mi sono sfogato, saluto il presidente dell'Ottava Zuova e un presidente di Federazione Sportiva Nazionale e un collega probabilmente vostro, perché insegna qui a Ecotecne, alla facoltà di architettura, è vero Alberto? Ingegneria. Perdonami, io so che c'è questa, sarebbe una bella sfida, calcio, architettura e ingegneria. Comunque, vi abbraccio e vi lascio al successivo intervento. Grazie, Grazie presidente, e intanto faccio un applauso. Il mio colpa, promettendo una cena al professor Luigi Melica, vi passo la parola per i saluti. Grazie, spero che mi sentiate, sì. Dico, voglio innanzitutto scusarmi per non essere in presenza, ma avevo una visita già fissata da due mesi a Bologna e quindi sono dovuto, insomma, non potevo mancare perché altrimenti con i tempi della sanità anche nel nord chissà quando l'avrei potuta fare. Ora, io sì, dovrei fare i saluti da padrone di casa, ma ovviamente questo è un evento fondamentalmente del CONI e quindi è giusto che a fare i saluti sia stato prima l'amico Angelo, Giliberto, quindi ci mancherebbe altro. Peraltro con la sua sentinella nel territorio, ossia Renis, noi collaboriamo già da tempo e oserei quasi dire che questo è diventato un po' anche casa sua per quante cose facciamo insieme e quante volte diciamo è qui da noi. Ora, io vorrei solo dire due parole prendendo anche spunto dall'intervento oggettivamente transciante di Angelo Giliberto e che capisco, capisco perfettamente parto dalla sensazione che ho io quasi psicologica quando devo andare dovevo andare in passato oramai mio figlio a 19 anni a pagare la retta annuale della ASD nella quale lui fa sport. Normalmente quando si paga una retta quando si paga una tassa uno non è mai felice di pagare una tassa poi credo che poi ci vengano a raccontare devi essere felice perché in questo momento stai contribuendo al bene del paese cioè tutto quello che volete però quando si pagano le tasse t'arriva siamo quasi a giugno sta per arrivare la mazzata e uno non è tutt'altro che è felice poi lo fa ho torto collo ma non è felice ecco al contrario io vi devo dire che quando devo pagare quella retta lo pago devo dire sono quasi incentivato a farlo lo faccio quasi subito ma non per togliermi il pensiero perché credo che all'ASD vada dato un contributo cioè lì sento quasi più senso civico che nel pagare la tassa forse perché le tasse sono troppo alte in Italia ma perché dico questo perché esiste un mondo dello sport e un altro mondo dello sport esiste il mondo delle società professionistiche il mondo di contratti pazzeschi il mondo un mondo no fatato in cui leggeva addirittura stamattina che l'emiro del Qatar vuole comprare la Sampdoria cioè ecco esiste quel mondo poi esiste però l'altro mondo che numericamente è molto ma molto preponderante rispetto al primo numericamente cosa intendo in termini di ragazzini impegnati dalle scuole calcio basket volley dagli sport individuali dai 5 6 ai 18 19 anni sono tantissimi ma sono tantissimi che tutto sommato se ci riflettete 2 3 4 volte la settimana sono tolti dalla strada e sono a fare sport sono a fare ciò che appunto non nell'immaginario collettivo ma in quello che è lo sport lo sport federale lo sport come negli statuti coni nello statuto cio quel qualche cosa che non è solo l'attività sportiva strettamente intesa ma è anche molto di più è anche abbracciare certi valori la coesione lo stare insieme l'eguaglianza lo spirito di corpo tutto quel qualche cosa che fa sì che magari in altri paesi penso alla Spagna ci sia un'attività scolastica molto più sviluppata a livello sportivo che in Italia e anche universitaria guarda caso poi la Spagna faccio l'esempio del basket stavo prima ho citato il basket a livello giovanile vince ovunque perché? perché c'è una compenetrazione forte tra scuola e sport cosa di cui noi parliamo sempre ma ne parlano i presidenti federali ne parla il presidente del CONI Malagò dovremmo fare molto di più ecco da questo punto di vista io credo che forse la riforma che ha cercato di intervenire per dare garanzie per l'amor di Dio bisogna dare garanzie ma bisogna dare garanzie in un mondo che che c'ha i soldi esper allora è giusto dare garanzie ma se c'è un mondo dove effettivamente facevo l'esempio della retta che pago volentieri perché so che sto dando un aiuto a persone che devono fare a società la gran parte delle società delle SD devono far quadrare i conti alla fine spesso e volentieri soprattutto al sud lo sapete benissimo se a un certo punto si fa fatica e devono le persone mettere mano al portafoglio a pagare dal mese di marzo in poi perché questo succede nel calcio nell'eccellenza nella promozione cioè già a livelli alti e perché le persone devono mettere mano al portafoglio perché si fa fatica fondamentalmente e nessuno si intasca luna ora ecco da questo piccolo esempio io trago le conseguenze cioè ha ragione Giliberto quando dice bisognava partire dai problemi concreti ne ho buttati giù due o tre che sono emersi queste sono le cose terra terra numeri state numeri persone che devono comunque essere retribuite rette che devi comunque far pagare poi devi considerare il territorio Bologna è diversa da Lecce mio figlio vive a Bologna e quindi lì pagare una retta per l'80% delle famiglie non è un grande sforzo pagare la stessa retta che poi è sicuramente inferiore al sud è un altro sforzo ma come fanno a reggersi queste società ecco io credo che il mondo della politica dovrebbe prendere in considerazione prima di tutto questo poi andare a fare i decreti correttivi se c'è da fare dei decreti correttivi è ovvio e poi pensare anche agli sportivi perché comunque una riforma va fatta perché non può essere che esiste una differenza enorme tra la Lega Pro parlo del calcio ma anche nel basket la 1 la 2 scendi la Cisilver la Cigol quindi se no parliamo sempre del calcio dal punto di vista degli status dal punto di vista quando poi dal punto di vista in realtà degli allenamenti settimanali l'impegno è uguale i nostri ragazzi gli studenti atleti dell'università del Solendo che giocano a calcio che giocano a basket e che ogni anno vanno a fare i campionati universitari giocano dalla serie B nel basket a scendere dall'eccellenza qualcuno in D nel calcio a scendere si allenano 4-5 volte alla settimana a volte fanno doppia seduta la differenza rispetto ai professionisti è minima allora o gli si dice non puoi fare sport a questi livelli o gli si dà un riconoscimento e per dare un riconoscimento bisogna ovviamente considerare i pro e i contro perché è evidente che sono le squadre professionistiche di A e B sono aiutate dal sistema a scendere dalla Lega Pro in giù e sempre più vuota a perdere come si suol dire non sai come fare a far quadrare i contro ecco da questi due diciamo da questi esempi io credo nel saluto di aver messo un po' di carne al fuoco cioè una riforma deve guardare a 360 gradi pro e contro deve bilanciare ma poi deve intervenire perché una riforma secondo me va fatta e va fatta soprattutto perché ci sono tanti buchi neri penso per esempio e qua chiudo le regioni ne avevo parlato col presidente Giliberto e ci torneremo insieme non appena finalmente avranno preso una decisione se le ASB effettivamente alla fine saranno così in difficoltà io credo che le regioni dovrebbero intervenire e cercare di sostenere le ASB che hanno gli ASB che tolgono i ragazzi dalla strada ecco la semplifico così ci capiamo se io tolgo 200 ragazzi dalla strada tre volte la settimana due volte la settimana per un anno io devo avere qualcosa dalla regione per il servizio sociale che svolgo perché questo è anche un servizio sociale non è solo un'attività sportiva e qualcuno nelle istituzioni si deve prendere carico di questo non possono essere le federazioni non può essere il CONI devono essere le istituzioni di questo dovrebbero occuparsi vi ringrazio e starò ad ascoltarvi finché possa grazie grazie professor che grazie a tutti Grazie. 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 Grazie carattilio. Quindi entriamo nel vivo. Facciamo un applauso. Entriamo nel vivo e passo la parola all'avvocato Emanuela De Leo. Prego. Salve a tutti. Grazie. Mentre sentivo i saluti o comunque l'introduzione pensavo che hanno tutti ragione e un po' tutti torto. Vi spiego meglio. Parlare di riforma dello sport è difficilissimo. Me ne rendo conto sempre di più. Ogni convegno a cui ho l'onore di partecipare diventa sempre più difficile parlare della riforma dello sport. perché? Perché? Allora, dal punto di vista storico, perché arriva la riforma dello sport? Arriva la riforma dello sport perché effettivamente lo sport dilettantistico nel corso degli ultimi 30-40 anni ha subito un'evoluzione e un fatto sociale. Come la società si è evoluta nel corso degli ultimi 40-50 anni? Immaginate a cos'era lo sport dilettantistico nel 1950. nemmeno esisteva. Poi siamo arrivati agli anni 80. Negli anni 80 lo sport ha cominciato ad assumere una valenza diversa rispetto a quella che era dei tempi di de Coubertin, per capirci quando. Ma perché si chiama sport dilettantistico? Perché lo sport era praticato per diletto. Da chi? Dai ricchi. I poveri non avevano accesso allo sport. Quindi siamo partiti da una concezione di sport che era quella di de Coubertin. Pian piano la società si è evoluta ed è arrivata allo sport per tutti di cui parliamo oggi. Quindi intanto bisogna contestualizzare storicamente il perché di questa riforma. Quindi dicevo negli anni 80 ci si accorge che lo sport è diventato un fenomeno importante dove giravano i soldi. Per cui nell'81 viene fuori la famosa legge 91 dell'81 che però attenzione regolamenta solo lo sport professionistico. E sappiamo bene che attualmente ci sono soltanto quattro federazioni e mezza che hanno un settore professionistico, tra cui il calcio. Quello che diceva prima il professore Melica è giustissimo, il mondo del calcio, quello professionistico, è tutt'altro rispetto a quello che è il mondo dello sport dilettantistico. Ma anche lo sport dilettantistico che è stato sostanzialmente lasciato in un limbo. Perché, ditemi voi, qual era la legge che fino alla riforma regolamentava lo sport? C'erano delle leggi dal punto di vista fiscale. L'articolo 148 del TUIR, l'articolo 90 della finanziaria del 2003. Però la definizione di sport, giusto o sbagliata che sia, io non voglio fare un discorso orientato, io sono un tecnico, quindi da tecnico devo parlare. La definizione di sport è stata data per la prima volta nel decreto 36 del 2021, all'articolo 2, che entrerà in vigore il primo luglio, ammesso che entri in vigore. Quindi, dal punto di vista civilistico, lo sport dilettantistico non era regolamentato. E attenzione, stiamo parlando di una realtà dello sport dilettantistico, che coinvolge tutto e il contrario di tutto. Perché se ci sono federazioni che non hanno il settore professionistico, all'avvolo per dire, dove in realtà ci sono delle situazioni economiche importanti, poi ci sono anche le piccole realtà, quelle che vivono sul presidente che fa, da autista, da istruttore, da tutto fare, e che non riesce ad arrivare non a fine mese, ma manca a metà mese. Perché si basa tutto sul volontariato. Quindi, ecco perché la riforma. Sono comunque d'accordo col presidente Giliberto su una cosa. La riforma andava fatta dal basso, non dall'alto. Applicando un principio, che è un principio costituzionale, che è stato già applicato e comunque richiamato a proposito della riforma del terzo settore, e che quindi sicuramente si attaglia a quello che è lo sport, che è il principio di solidarietà, di sussidiarietà orizzontale. Articolo 118 della Costituzione, ultimo comma. Non sto dicendo nulla di nuovo. Cosa dice? Dice che per fenomeni sociali importanti, e lo sport lo è, perché lo sport, come diceva poco anzi il professor Melica, toglie dalle strade i ragazzi anche quelli difficili. Quindi lo sport ha una funzione sociale, tanto vero che a breve sarà introdotto anche nella Costituzione. Quindi lo Stato ha compreso l'importanza sociale dello sport. Lo sport è diventato parte del tessuto sociale perché oggi, fortunatamente, lo sport non è un fenomeno elitario come ai tempi di De Coubertin, ma è diventato, grazie a Dio, una realtà. E quindi, in quanto tale, va regolamentato. Come? Dal basso, sicuramente. La riforma dello sport, se ha una pecca e ce l'ha, è il fatto che, come diceva il Presidente Ciliberto, non siano stati coinvolti nella stesura di questa benedetta legge delega quelli che lo sport lo facevano davvero. Questo è stato un po' calato dall'alto, però consentitemi anche di dire un'altra cosa. La legge delega è dell'agosto 2019. I decreti attuativi sono cinque e, parentesi, sono tutti in vigore tra nel 36, perché non è che la riforma è partita, è partita già da un po'. Ma, i decreti sono del 2021, febbraio 2021, oggi ci stiamo tutti svegliando dicendo che la riforma va rinviata. Ma, scusatemi, finora, che cosa abbiamo fatto? Noi, perché io sono anche dirigente di un'associazione sportiva, noi che lo sport lo praticavamo veramente, abbiamo pensato alla fine che poi tanto si rimanda? E sapete perché dico questo? Perché stasera siamo in pochissimi. Lo dicevamo prima con il delegato provinciale, con il Girenis. Tutti, tutti, molti, tranne le persone evidentemente presenti, tanto la rimandiamo, tanto la rimandano. E se non la rimandano? E se non la rimandano? No, perché, e adesso incomincio il mio intervento tecnico, Il registro delle attività sportive e dilettantistiche, RAS, per gli amici, è operativo già dal 31 agosto dello scorso anno. Quindi, non stiamo parlando di qualcosa che è da venire, ma qualcosa che già esiste. Con delle criticità enormi. Perché il RAS, che è regolamentato nel decreto 39, in vigore, vi ripeto, operativo dal 31 agosto 2022, ha avuto un'evoluzione, ancora adesso è in sede di implementazione, anche perché è strettamente legato al decreto 36 e quindi ancora in una fase transitoria, ma si è intervenuti per l'ennesima volta, perché in Italia è fatto così, in Italia siamo fatti così, siamo intervenuti per l'ennesima volta sul regolamento di attuazione, di attuativo del RAS, in cui ancora permangono dei dubbi interpretativi, che toccano specificamente le associazioni, attenzione. Quindi la riforma è già in essere, tanto vero, ne parlerà dopo la collega, che ci sono state delle pronunce da parte di magistrati che hanno già applicato addirittura la clausola di salvaguardia, prima che entri in vigore. Quindi la riforma è una realtà e sebbene ad avviso mio non sia perfetta, sicuro è un dato di fatto. Sicuro si doveva intervenire prima, ma qualora entri in vigore il primo di luglio, la colpa dell'errore, del fatto che la riforma non sia la migliore riforma del mondo, e sfido tutti, perché d'altronde poi le riforme entrano in vigore, poi si capisce sul territorio se poi effettivamente vanno modificate. Finché non entrerà in vigore non si capirà bene quali sono le criticità. ma, ripeto, se entra in vigore il primo luglio dobbiamo essere comunque pronti a capire di che stiamo parlando, non aspettandoci che tanto poi la rimandano, oppure proponendo, e lo so per certo, di comunque mantenere in vita il famoso articolo 67, che, ne parlerà la collega, non si capisce perché i lavoratori sportivi non devono pagare le tasse se lavorano aperte e chiusi, ma comunque, e anche le associazioni sportive, non si capisce per quale ragione la riforma debba essere rimandata. Ditemelo voi. Forse perché ci faceva comodo, parlo da dirigente, mantenerci in quel limbo in cui si sa e non si sa, si fa e non si fa. Non si dichiara, i lavoratori sportivi prendevano i famosi 10.000 euro, sono diventati la legge dei famosi 10.000 euro, così venivano chiamati. Lo sapete voi che fate sport. Poi alcuni venivano anche dati in nero, perché lo sapete pure voi, questa è la realtà, è inutile che ce lo nascondiamo. Se il convegno di oggi parla dei profili pratici della riforma, parliamo praticamente di come vengono gestite le associazioni sportive. E allora la riforma, ripeto, si andava fatta dal basso, si ci sono un sacco di pecchie nella riforma, però forse serve una riforma dello sport dilettantistico, anzi, togliamo il pochino, serve una riforma dello sport dilettantistico. Veniamo al RAS. A chi serve il RAS? Beh, il decreto 39 dà una serie di indicazioni. Il RAS certifica la natura dilettantistica di ASD ed SSD. Il RAS, vi sto leggendo l'articolo, i vari articoli. All'articolo 10, il RAS, sempre del decreto 39, certifica la natura dilettantistica dell'attività svolta dalle associazioni affiliate agli enti di promozione, alle discipline sportive associate, alle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comune. A cosa serve ancora? Serve alla pubblica amministrazione, perché l'idea del legislatore è consentire alla pubblica amministrazione, quindi all'agenzia delle entrate, quindi all'ispettorato del lavoro, di verificare quello che succede nelle nostre associazioni. succede in tutte le altre realtà. Cioè non stiamo dicendo niente di… Perché è vero che esistono le piccole associazioni, quelle di cui parlavo prima, però è vero che esistono delle associazioni che sotto legida del ASD fanno, anche in proprio il termine, dei fatturati che non hanno niente da invidiare a piccole e medie imprese. Di questo vogliamo parlare o dobbiamo sempre nascondere la polvere sotto il tappeto? Parliamone. A cosa serve ancora? Serve anche per ottenere la personalità giuridica in maniera semplificata, in deroga rispetto al DPR 361 del 2000. A cosa serve ancora? Serve, chiaramente quando sarà implementato, a gestire rapporti di collaborazione con i vari lavoratori che si avveranno nelle associazioni. A cosa serve ancora il RAS? Serve anche a chi ha dei rapporti con le associazioni, soprattutto quelle con personalità giuridica, ma non solo, e che quindi dal profilo pubblico possa accedere per vedere quale è la realtà con cui vai a interfacciarsi. Quindi è anche una forma di garanzia. Peraltro, parentesi aperta e parentesi chiusa. In questo, e a ragione del Presidente Giliberto, già c'era il registro CONI. Quindi io comprendo quando il Presidente Giliberto dice ma perché ne abbiamo fatto un altro? Perché probabilmente c'è una falla nel voler necessariamente pensare allo sport in Italia come un appannaggio esclusivo del CONI. E così purtroppo non può più essere. Non può più essere per una serie di ragioni già storiche, perché già il CONI italiano dal punto di vista storico è un unicum rispetto a tutti gli altri comitati olimpici internazionali. Lo dice la parola stessa. Il CONI si occupa della formazione olimpica ed è importantissimo questo. Però è necessario che il CONI venga non ostacolato ma supportato anche dalle istituzioni, come diceva il Professore Meica, in tutto quello che non è sport olimpico. È inutile quello che purtroppo sta succedendo perché vuoi va a detrimento delle nostre associazioni. E' inutile mettersi sport e salute e CONI come due lanti. Non serve a nessuno, soprattutto al mondo dello sport. Quindi collaborare forse serve anche perché il fatto che attualmente, e su questo nessuno mi può dire nulla, in Italia chi capisce di sport è il CONI, ma perché lo ha fatto da sempre. Quindi bisogna attingere alle competenze del CONI, delle federazioni, di chi ha fatto sempre sport, cercando di capire se c'è una strada, non che accontenti, perché le leggi non possono accontentare. Le leggi non possono accontentare tutti. La legge viene fatta per regolamentare, non per accontentare. Ma per capire, una volta che entrerà in vigore la riforma, se c'è qualcosa da correggere, quello sì. Cosa bisogna inserire? Quali dati bisogna inserire nel RAS? Ah, una precisazione. Chi era già iscritto al registro CONI ha dovuto semplicemente fare, attivare la propria utenza sul RAS, perché dal registro CONI tutti i dati già trasmessi al registro CONI sono transitati nel RAS. Chi invece ha costituito un'associazione o una società sportiva dopo il 23 agosto dello scorso anno, a quel punto deve fare un altro passaggio attraverso l'ente affiliante, perché poi sarà l'ente affiliante che caricherà sul registro il codice fiscale dell'associazione e il codice fiscale del presidente e una volta caricato poi sarà il legale rappresentante dell'associazione ad attivare la propria utenza. Come vi dicevo, poc'anzi ancora il RAS non è operativo. Chissà quanto tempo ci vorrà, anche perché vi ho detto quante funzioni ha il RAS, quindi, ai voi, poi per come funziona in Italia. Quindi quali dati inserire? Sostanzialmente i dati sono gli stessi che abbiamo inserito nel registro CONI. Però, ci sono delle novità. Bisogna intanto inserire tutti i nomi e i dati dei tesserati. Bisogna inserire gli impianti in cui svolgiamo la nostra attività e all'inizio il decreto prevedeva addirittura il deposito dei rendiconti. Andavano depositati i rendiconti. Adesso non è più così. C'è stato un correttivo anche del decreto 39 per cui non è più necessario inserire i bilanci, però è necessario entro il 31 gennaio di ogni anno depositare un'autocertificazione con cui si rende conto del fatto che ci siano state delle modifiche nell'assetto societario tutto quello che è successo nel corso dell'anno che possa interessare chi? Il Dipartimento dello Sport, Sport e Salute, l'Agenzia delle Entrate, il Ministero del Lavoro. Ripeto, non mi sembra nel momento in cui non abbiamo nulla da nascondere tanto difficile. Chiaro è che purtroppo ci sono il RUNS, il RAS, il registro CONI, il registro CIP, è chiaro che immaginate un ASD che è anche un APS deve essere intanto iscritto a tutti e due i registri, tanto per cominciare. E nonostante il correttivo del decreto 36 abbia fatto in modo da in qualche modo allineare terzo settore e sport puro, chiamiamolo così in maniera impropria, perché, parentesi, nella riforma del terzo settore lo sapete, le APS fra le attività di interesse generale possono svolgere anche attività sportiva. Mi spiego? Quindi nel 2017 la riforma del terzo settore in cui si dice che le APS possono svolgere attività sportiva tra le attività di interesse generale. Riforma dello sport 2019, legge delega, eccetera, si parla di sport vero e proprio. Nel decreto 36 però non c'era un allineamento fra terzo settore e sport diciamo vero e proprio. Il decreto 36 ha cercato in qualche modo in realtà abbastanza bene di mettere del, di collegare quantomeno diciamo di non creare delle dicotomie fra questi due sistemi che poi fondamentalmente si occupano dello stesso, cioè del non profit, no? Però quello che vi dicevo prima, cosa è successo? Allora, c'è un problema. Nel momento, allora, nel momento in cui ci, quali sono i requisiti per iscriversi al RAS? I requisiti, ai sensi del decreto 36, vabbè, i vari, toccano un punto specifico che è molto importante dal punto di vista pratico, perché sembrerà una questione terminologica ma non lo è affatto. Si parla, per poter essere iscritti al RAS, di attività sportiva, nonché formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva. Perché sto dicendo questo? Perché? In tutta la riforma dello sport, a partire dalla legge delega per arrivare a tutti i decreti attuativi, si fa una grande confusione su chi possa essere qualificato come associazione o società sportiva dilettantistica. E voi mi direte è una questione terminologica? No. Perché per usufruire delle agevolazioni fiscali importanti bisogna avere i requisiti per essere iscritti al RAS. E quindi, che cosa significa questa cosa che vi dicevo? Significa che non si capisce e aspettiamo perché si aspettava il regolamento del RAS ma neppure quello l'ha chiarito, non si capisce bene se un'associazione sportiva possa svolgere esclusivamente attività sportiva oppure debba necessariamente svolgere anche attività didattica. Vi faccio un esempio. Una palestra di fitness che ha ASD si va si paga anche la quota associativa magari si paga il tesseramento o niente di promozione magari si fanno solo corsi ma non si fanno competizioni non si partecipa ai campionati. Quella è un'associazione sportiva dilettantistica che può iscriversi al RAS e quindi beneficiare di tutti gli sgravi fiscali? non si sa Roberto non si sa perché allora nel decreto 36 hanno in corsa col correttivo all'articolo 38 comma 1 il legislatore si è accorto del fatto che perché qual è poi il problema? Il problema è che il decreto 36 ha consentito anche agli enti del terzo settore di entrare sostanzialmente nel mondo dello sport vero e proprio e gli enti del terzo settore le APS non fanno soltanto attività sportiva fanno anche altre attività e spesso fanno attività sportiva che non è quella che intendiamo noi da sportivi puri quindi il legislatore in corsa nel nel correttivo di novembre all'articolo 38 al comma 1 ha detto che l'area del dilettantismo comprende i sodalizi che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme senza distinzione tra attività agonistica didattica formativa fisica e motorie abbiamo risolto il problema no regolamento del RAS due articoli in contraddizione fra loro il primo che dice che se entro 180 giorni dall'iscrizione al RAS quindi diciamo la nuova costituzione tu devi comunicare di svolgere almeno una fra le attività o di didattica o di formazione allineato con quindi se io faccio soltanto corsi ma non faccio campionati posso iscrivermi al RAS no subito dopo sempre nello stesso regolamento si dice il contrario cioè si dice che invece servono tutte le attività quindi sia quella sportiva sia quella didattica ditemi voi io non ve lo so dire oltretutto e veniamo anche a un altro mi rendo conto che il tempo passa e deve essere anche veloce vi sto dando degli spunti di riflessione veniamo alle modifiche statutarie voi sapete che dovrete apportare delle modifiche statutarie alle vostre associazioni e quello che è importante è distinguere fra l'attività principale praticata in via stabile e le attività diverse perché perché allineandosi col terzo settore intanto dovete modificare gli statuti e va bene ma allineandosi col terzo settore il legislatore ha dato una stretta ha dato una stretta e ha detto attività istituzionale è esclusivamente quella praticata in via stabile e principale le attività diverse che erano quelle che facevamo ovunque anche le attività ricreative pensate che fra poco partono i campi estivi quelle sono attività diverse come si regolamentano non lo so perché se il primo luglio entra in vigore la riforma teoricamente quelle sono attività diverse e posto che aspettiamo il famoso decreto del presidente del consiglio di cui parlava il presidente Giliberto quelle attività che riguardano esclusivamente i limiti entro cui si potranno praticare queste attività che se andiamo al terzo settore dovrebbero essere il 30% dell'entrata diciamo il 30% dell'entrata e del bilancio del prendiconto dell'associazione e il 66% dei costi non lo sappiamo perché ancora non c'è il decreto del presidente del consiglio dei ministri ma e fortunatamente il correttivo ha tolto di mezzo da questo computo le sponsorizzazioni e i proventi promopubblicitari i proventi dalla gestione di impianti e anche dall'indennità per il trasferimento di atleti ma qual è il problema? Il problema è che non è chiaro aspettiamo sempre la nuova il decreto del presidente del consiglio dei ministri che speriamo che rischiamo ma non è così eppure però sappiamo che se il primo luglio è in vigore noi dobbiamo modificare gli statuti nel senso in cui ho detto e non sto toccando il terzo settore perché ci sarebbe da parlare e parlare però comprendete che mettere la testa sotto il tappeto non serve sotto la sabbia scusatemi non serve dobbiamo gli statuti vanno modificati bene bisogna modificare gli statuti non si può aspettare dobbiamo prendere contezza del fatto che questa riforma c'è che è giusto o sbagliata che sia ci sono delle l'iscrizione al RAS la dobbiamo fare ho sentito gente che mi ha detto no ma tanto non serve iscriversi al RAS basta l'iscrizione al CONI no attualmente ci sono due registri il CONI ha spiegato perché mantiene l'esistenza del registro CONI quindi attualmente ci sono due registri ma per legge attualmente l'unico ente certificatore non è più il CONI è il Sport e Salute il Dipartimento dello Sport anche il CONI vabbè Sport e Salute in quanto braccio armato diciamo ecco è una società in house ma è quella che controlla ma è il Dipartimento dello Sport quindi e concludo perché tanto ci sarebbe da dire ma il tempo è quello che è bisogna prendere contezza che la riforma in parte è già legge e in base a questo adattare i nostri statuti e comunque chi ancora non lo ha fatto deve procedere agli iscritti dimmi no 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 ascolta ti stoppo subito il CONI e non chi ha fatto la riforma nel Consiglio Nazionale del 23 ha già detto che nel prossimo Consiglio presenterà alle federazioni nazionali discipline un documento dove dirà come fare la modifica dello Statuto e poi non è una cosa che si fa così ha nominato anche un commissario ad acta che lo farà per tutte le federazioni a catena cadrà qui quindi vi arriverà questo documento dove voi non è che vi alzate la mattina e diciamo lo faccio così no è così identico per tutti inteso c'è no no e se le tengono per loro le bozze di statuta arriverà quella perché quella è uguale per tutti perché quella per legge sarà la modifica che andrà fatta così come per il vingolo sportivo tradotto l'amica De Leo ha detto per chi è attività sportiva e gode del beneficio fiscale della 398 dell'agevolazione dell'iva da domani non può più continuare a tenere il barretto e scaricarsi tutte le cose del barretto o vendere via di perché se viene l'agenzia o la finanza la mazzolata è forte quello che per fortuna non specifica questa legge così quando quando tu hai soprattutto quando vengo io qui a Lecce l'autovelox mi becca se paghi entro 5 giorni paghi se paghi entro paghi cioè qui almeno questa sanzione non è scritta va bene domani certo assolutamente e purtroppo quello è un errore fra i tanti perché non è stata prevista una disposizione analoga un'esenzione analoga per delle modifiche statutari infatti imposte dalla legge cosa che per il terzo settore è previsto invece per quanto riguarda lo sport e viene prevista la modifica in misura fissa quindi pagano i famosi 200 euro credo e infatti dovrete pagare i famosi 200 euro salvo che non intervenga qualche provvedimento ad hoc sarebbe auspicabile quantomeno per allinarsi col terzo settore perché per il terzo settore è consentito anche perché poi entra in gioco il fatto le APS che sono le ASD che sono anche APS per esempio a proposito di quello che vi dicevo prima le sponsorizzazioni e tutto quanto il resto che vengono tolte da quelle che sono le attività diverse quanto meno per i limiti ma possono usufruire di di questa agevolazione oppure devono comunque fare riferimento al codice del terzo settore non è detto non si sa per il terzo settore sono torte ma se un APS un ASD e anche APS visto che è una legge speciale e che il codice del terzo settore dice salvo disposizioni di legge specifiche allora in questo caso visto che è una disposizione di legge specifica si applica non lo so io non so che dirvi per questo vi ho detto è sempre più difficile di fatto c'è però che due cose sono certe il RAS esiste già quindi bisogna iscriversi e quindi la riforma se entra in vigore il primo di luglio prevede le modifiche statutarie e vanno fatte nel senso che ho detto poco fa grazie grazie Emanuela io ho solo due domande ma le risposte non le voglio anche perché magari sono con il Presidente assolutamente dobbiamo andare ad un altro incontro forse devi venire pure te allora mi parlavi di problema che pensano tutte le assedio e i Presidenti tanto la rimandano la rimandano la rimandano e magari fosse quello il problema che se la riforma non l'hanno letta e ti posso assicurare che il 99% dei dirigenti della riforma non l'hanno letta quindi non sanno nemmeno a cosa vanno incontro io dal mio punto di vista tra le criticità quella che fino al 30 di giugno e c'è ancora quelle famose 10.000 euro già prima 7.500 poi dal primo di luglio 5.000 che cosa vuol dire che fino al 30 giugno io posso dichiarare le 9.990 centesimi e poi altre 5.000 quindi saranno 15.000 e non più cioè questa è una domanda questo ci può rispondere l'avvocato Damburrano che è ferrata e che poi vorrò una risposta in privato sì e l'altro problema era quello di cui parlavamo l'altro giorno Gigi sì sì ma questo perché sono domande che mi pongono tante persone almeno quelle che si sono lette in parte la riforma è chiaro che criticità ce ne stanno tanto così come è vero che l'Italia funziona in un certo modo e proprio su come funziona l'Italia ahimè vedo già qualcosa che può cambiare ma in peggio quella che che stiamo leggendo come riforma innovativa e sono d'accordissimo sul fatto che è una legge bisogna adeguarsi su questo non si discute dopodiché caro presidente io saluterei almeno da parte mia ringrazio quanti sono intervenuti sia in presenza che no 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 sto salutando solamente io e il presidente assolutamente giustamente c'è l'avvocato Patrizia Tamburrano e Lucia Bianco che vi raccomando per quello che andranno a dire io chiaramente insieme al presidente ci interfacciamo ripetutamente al professore Attilio Besanò che verrà qui per i saluti e che ci sta seguendo in quel di Piazza Mazzini saluto ancora tutti presidente se vuole fare i saluti io vi abbraccio a tutti quanti e ovviamente ci rivediamo ci rivediamo sui campi facciamo sport perché noi facciamo sport queste cose lasciamole fare a chi attacca l'autonomia dello sport noi dobbiamo ritornare ad essere autonomi dobbiamo ritornare a fare sport e in questi due anni in cui ci siamo collegati da remoto come adesso io mi sono divertito a sentire chi ha fatto soprattutto questa riforma dove ha detto di tutto e di più e adesso sta calpestando quello che ha detto lo sport inclusione lo sport salva dalla strada lo sport fa tutto però poi alla fine è quello che dicevo prima le risorse dove sono adesso è in costituzione però non dice dove si fa questo sport esempio lo sport a scuola chiudo grazie presidente professor Pisano se lei è d'accordo e se lo sono anche le relatrici io credo che a settembre dovremmo rivederci siete d'accordo su questo perché se sempre se sempre con quel se va bene altrimenti rimanderemo come diceva prima il presidente ma magari rimanderanno a gennaio e quindi ci vedremo a marzo eccetera perché poi dobbiamo lasciare un po' di tempo che entri in vigore per vedere il caos che ci sarà grazie ancora a tutti e buon proseguimento a settembre a settembre ci rivedremo noi andiamo perché c'è un altro impegno concomitante legato ad un'altra iniziativa sportiva dove dobbiamo fare un salto diciamo per questo mi dispiace lasciare tutti quanti soprattutto Patrizia e Lucia però siete in ottime sono loro in buone mani e voi siete in ottime mani buona continuazione siamo tra pochi intimi allora veniamo a noi ci hanno messo ansia e se ne vanno capito tutta l'ansia di questa riforma questa cosa e poi se ne vanno va bene allora noi con alcuni di voi ci siamo visti diverse volte perché questa non è assolutamente la prima volta che parliamo di questa riforma e ogni volta che ne parliamo si avvicina quel momentaccio dell'entrata in vigore dell'articolo del decreto legislativo 36 e quindi ogni volta siamo un pochettino più preoccupati di come si farà che cosa succederà io devo parlarvi di quella brutta cosa che è la parte lavoristica e quindi cosa cambia sostanzialmente siccome abbiamo detto che stasera dovevamo essere pratici dovevamo parlare di problemi pratici soluzioni pratiche vi anticipo che non è che ci sia tanto da dire rispetto a prima però cercheremo di andare al succo diciamo del discorso che cosa cambia già ve l'ha anticipato la collega sicuramente lo sapete quello che cambia sostanzialmente è prima di tutto è che non ci sarà più l'applicazione dei famosi compensi sportivi quello è il problema fondamentale fino ad ora e naturalmente sto parlando del mondo sportivo dilettantistico perché nella disciplina lavoristica del settore professionistico cambia poco e niente già adesso in quel settore abbiamo rapporti di lavoro autonomo rapporti di lavoro subordinato e così sostanzialmente continuerà ad essere con qualche piccolissima differenza quello che invece è lo stravolgimento è quello che riguarda del settore dilettantistico finora cosa era successo due parole soltanto articolo 53 del tuir parlava dei compensi sportivi articolo 67 del tuir comma 1 lettera M parlava dei compensi sportivi quindi il 53 ci diceva che i compensi sportivi possono essere erogati al percettore che non possa però considerarli come redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ma in relazione alla qualità e in relazione alla qualità di lavoratore dipendente e vengo subito al punto se andiamo al fondo della questione già adesso già ora che ne stiamo parlando e fino al 30 giugno che ancora l'articolo 67 esiste i famosi 10.000 euro la no tax area già adesso esiste la possibilità anche nel mondo direttantistico di stipulare contratti di lavoro subordinato di avere rapporti di lavoro autonomo ma ci sono anche i compensi sportivi la no tax area quella che ha portato avanti gran parte del mondo sportivo direttantistico fino ad oggi quella che ha consentito fondamentalmente di vivere in questa maniera un po' allegra a tutto il settore cosa è successo per tanti anni il convincimento che si trattasse di un terzium genus questo dei compensi sportivi e quindi sì lavoro subordinato sì lavoro autonomo ma anche compensi sportivi ha fatto andare avanti tranquillamente tutti noi presidenti di associazioni e abbiamo agito in quella maniera ma in realtà già a capallo tra il dicembre 2022 e il gennaio 2023 è intervenuta la corte di Cassazione con una serie di oltre 37 sentenze tutte orientate nella stessa maniera in maniera tale cioè da dare una strigliata a tutti noi sportivi e dirci amici guardate che forse state sbagliando in realtà i compensi sportivi non li potete dare così allegramente è necessario che il percettore del compenso sportivo non sia una persona che ne fa un esercizio di arte o professione non sia una persona che mantenga se stesso la propria famiglia con quel tipo di lavoro per intenderci quindi con tutta probabilità già adesso ci hanno detto state sbagliando un po' tutto ma è vero anche che già nel 2019 si era detto entrerà in vigore una riforma che cambierà tutto questi compensi sportivi comunque non ci saranno quindi quella forma di strigliata che ci è stata data prima dalla legge delega quella della 2019 e poi da questa sentenza della Corte di Cassazione adesso si sta concretizzando in realtà dal primo di luglio se tutto andrà come sembra che debba andare ci dobbiamo dimenticare dei compensi sportivi e quindi che cosa succederà che nella post riforma noi avremo queste quattro tipologie di collaboratori all'interno degli enti sportivi i volontari e ne parleremo i lavoratori sportivi quali potranno essere sempre subordinati autonome nell'ambito dell'autonomia potranno stipulare contrasti di collaborazione coordinata e continuativa i lavoratori non sportivi quelli che non svolgeranno le mansioni di cui all'articolo 25 vedremo quali sono e i collaboratori amministrativi gestionali categoria già esistente che continuerà ad esistere e che però ripeto non sarà intesa come lavoratori sportivi ma comunque godrà di importanti facilitazioni dal punto di vista tributario allora credo che è bene andare subito al dunque vediamo cosa dice il testo della riforma io mi occuperò degli articoli dal 25 al 38 sostanzialmente se voi avete un testo con voi potreste seguirmi l'articolo 25 da la definizione di lavoratore sportivo è una definizione che è parzialmente cambiata a seguito del correttivo che è entrato in vigore nello scorso novembre allora inizia con una tipizzazione di mansioni questo articolo e dice lavoratore sportivo è l'atleta l'allenatore l'istruttore il direttore tecnico il direttore sportivo il preparatore atletico il direttore di gara quindi è un'elencazione una tipizzazione che però non è chiusa perché a questa con il correttivo è stato aggiunto poco più avanti una specificazione è il lavoratore sportivo anche ogni tesserato ai sensi dell'articolo 15 che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale allora in che ambito ci stiamo muovendo sia in ambito professionistico che in ambito direttantistico sono lavoratori sportivi tutti coloro che prestano la propria collaborazione presso un ente sportivo dietro il versamento di un corrispettivo un corrispettivo quale che sia non c'è un minimo un euro è già un corrispettivo quindi esiste una categoria del lavoratore sportivo nuova non esisteva ci piace non ci piace è giusto non è giusto ma io direi che è giusto cioè era anche assurdo che tutti coloro che lavorano all'interno dello sport soprattutto quello direttantistico dovessero essere considerati come un un punto interrogativo più che altro sono lavoratori a tutti gli effetti dovranno pagare le tasse in certe situazioni godono anche qui di importanti sezioni da questo punto di vista e avranno anche dei diritti insomma è anche normale e costituzionale che gli vengano riconosciuti dei diritti detto questo stiamo comunque parlando di qualcosa di importante anche da un altro punto di vista non c'è differenza vi ho detto tra settore professionistico e dilettantistico e torno a quello che diceva la collega ricordatevi che il settore professionistico esiste soltanto in quattro federazioni attualmente quindi federazioni anche ricchissime federazioni dove si muovono interessi economici enormi di tipo anche commerciale sponsorizzazioni importantissime non hanno il settore professionistico quindi sono dilettanti quelli che svolgono l'attività all'interno di quelle federazioni siano estri atleti allenatori istruttori quello che sia direttori di gara o preparatori atletici ciò nonostante fino ad oggi noi li abbiamo chiamati dilettanti ma è un termine che siologicamente è più così significato in realtà attualmente sono lavoratori sportivi tutti senza nessuna differenza sia che lavorano all'interno del settore professionistico e sia all'interno del settore dilettantista dunque l'importante è ciò che di differenza dagli altri da tutti gli altri e che lo fanno verso un corrispettivo ecco però c'è l'esclusione sempre all'articolo 25 primo comma del carattere di queste mansioni amministrativo gestionali quindi vengono staccati gli amministrativi gestionali non sono lavoratori sportivi quindi tutto quello che diremo rispetto al lavoro sportivo riguarda invece le categorie che abbiamo appena detto le federazioni sportive nazionali gli enti di promozione sportiva le discipline associate cosa dovranno fare dovranno emanare dei regolamenti stanno già lavorando a questo molti sono già pronti ad emanarli dei regolamenti che individuano anche quelle altre mansioni rispetto all'attivizzazione che vi ho letto dimanzioni che fanno rientrare le persone che svolgono nella categoria del lavoratore sportivo con tutte le conseguenze la comma 1 bis c'è una dicitura importantissima viene introdotto il principio di specificità dello sport questo è un principio fondamentale ci dice cosa ci dice il legislatore di questa riforma attenzione sto cambiando un sacco di cose sto abbandonando l'attuale modo di vedere le cose ne sto introducendo un altro sto anche richiamando norme già esistenti nell'ordinamento civilistico come per esempio le collaborazioni coordinate e continuative ma so che lo sport ha una sua specificità quindi tutto quello che io richiamerò io legislatore richiamerò nella riforma comunque verrà adattato a il particolare mondo dello sport che ha delle sue esigenze ha delle sue particolarità ne dico una tra le tante si applica o non si applica la disciplina sulla sicurezza sui posti di lavoro questo è un problema fondamentale allora tutti quelli che fanno ginnastica artistica e evoluzioni con tripli i salti mortali tutti con l'elmetto gli scarponi e le corde di sicurezza potete immaginare no quindi ovvio che la specificità del mondo dello sport è questa per esempio allora quali sono le tipologie di lavoro sportivo lo dice sempre l'articolo 25 lavoro subordinato lavoro autonomo collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409 e vedremo dopo cosa vuol dire tutto questo comma 3 certificazione dei contratti di lavoro è importante questo perché in virtù del principio della specificità dello sport il legislatore introduce due presunzioni che operano per leggi che cosa vuol dire nel mondo dello sport dilettantistico chi lavora sotto le 18 ore settimanali di media viene automaticamente considerato un collaboratore coordinato e continuativo c'è una presunzione in questo senso ok nel mondo dello sport professionistico invece opera la presunzione opposta si presume che chi lavora nel mondo professionistico sia un lavoratore subordinato ma è solo una presunzione può essere benissimo diversamente fino a che cioè non si provi il contrario se e quando è che è necessario provare il contrario quando c'è un'avvertenza quando chi ritiene di essere danneggiato da un certo tipo di impostazione del rapporto di lavoro voglia dimostrare che invece il proprio rapporto di lavoro esempio non è collaborazione coordinata e continuativa ma è lavoro subordinato bene per evitare che questo succeda esiste un istituto che viene chiamato certificazione dei contratti di lavoro che viene richiamato nell'articolo 25 importantissimo e con consiglio pratico primo consiglio pratico quando andrete a stipulare i nuovi contratti appremo cercate di fare tutto per iscritto anche quando non è richiesto la forma scritta è richiesta solo per il lavoro subordinato fatelo sempre forma scritta anche quando andate a dare un incarico ad un volontario poi parliamo di volontari sempre forma scritta serve per provare per provare di che cosa parla il nostro contratto ma soprattutto andate da un ente certificatore saranno individuati questi enti certificatori da gli accordi che devono essere ancora messi in atto tra le organizzazioni di categoria le organizzazioni datoriali e le organizzazioni dei lavoratori e cioè le organizzazioni composte da federazioni sportive nazionali EPS e DS e le organizzazioni dei lavoratori sportivi individueranno quali sono gli enti che possono certificare la natura del contratto in questa maniera ci si mette il riparo dalle vertenze ci possono essere prestazioni occasionali sì possono esserci prestazioni occasionali verranno regolamentate secondo la disciplina ordinaria naturalmente quando parliamo di lavoro autonomo io ho dato per scontato si parla di partita IVA oltre che di COCOCO ok COCOCO fa parte del lavoro autonomo ma principalmente si può parlare ovviamente anche di partita IVA una cosa importantissima cosa succede ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche qual è la novità allora se i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono volontari gli basterà dare una semplice comunicazione alla loro amministrazione di riferimento se i dipendenti invece sono lavoratori cioè percepiscono legittimamente un un emolumento quale che sia dovranno avere un'esplicita autorizzazione in mancanza ci sono delle sanzioni importantissime vediamo cos'altro ci dice ah il regime dei premi e delle borse di studio ecco che cosa ne è premi e borse di studio si possono sempre comunque ricevere non vanno accumularsi il reddito derivante da premi e borse di studio non va a accumularsi con quello da lavoro tra l'altro per i lavoratori per i volontari è possibile percepire premi e adesso andremo quando arriveremo all'articolo 29 a parlare di questo articolo 26 disciplina del lavoro subordinato sportivo allora che succede possono essere lavoratori subordinati gli sportivi sì l'abbiamo già detto anche attualmente è sempre stato possibile ci sono già dei contratti collettivi nazionali che possono essere applicati ce ne saranno altri perché adesso le organizzazioni di categoria stanno per mettere in atto nuovi contratti collettivi nazionali quindi si farà riferimento a quelli il termine finale e cioè la durata massima del contratto però potrà essere di 5 anni ed ecco qua il principio di specialità del mondo sportivo ecco sì stiamo parlando di lavoro subordinato sì stiamo richiamando per tanti versi l'ordinamento civilistico ma ci sono delle importanti novità per esempio la durata non può eccedere i 5 anni del contratto è ammessa la cessione del contratto ci sono una serie di norme che non si applicano al contratto subordinato nel mondo sportivo norme che invece vanno a tutelare il lavoratore subordinato nel resto del mondo del lavoro quelle che riguardano i licenziamenti individuali è possibile la clausola compromissoria ad esempio quella è possibile non si non possono il contratto non può contenere clausole di non concorrenza non vado troppo a fondo su questo tra l'altro proprio perché i contratti collettivi nazionali ancora non sono stati i nuovi non sono stati ancora vediamo l'articolo 27 di che parla l'apporto di lavoro sportivo nei settori professionistici abbiamo già detto che il legislatore della riforma si rivolge molto di più al settore dilettantistico che a quello professionistico comunque nei settori professionistici il lavoro sportivo può essere oggetto di contratto di lavoro subordinato e valgono le norme che abbiamo già detto di contratto di lavoro autonomo e quindi partita IVA quando lavoro autonomo e questo è una specificità del mondo sportivo quando l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda frequenza di sedute di preparazione o allenamento è residuale diciamo il contratto di lavoro subordinato nel mondo professionistico tra l'altro la prestazione non deve superare le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno decisamente decisamente residuale autonomo che ho detto ecco vabbè volevo dire autonomo dunque importante la società ha obbligo di depositare questo contratto entro sette giorni dalla stipula dalla firma alla propria federazione ente affiliante perché la federazione deve approvare il contratto in mancanza dell'approvazione il contratto perde la sua valutazione dunque articolo 28 e l'articolo 28 è interessante è quello che parla dei co-co-co in ambito dilettantistico quindi diciamo il 90% dei casi il 90% degli sportivi sono sportivi dilettanti e nell'ambito del mondo dilettantistico quasi sicuramente moltissimi applicheranno questo articolo 28 qui opera quella presunzione di cui parlavamo prima le 18 ore settimanali quindi se il lavoratore sportivo ha un contratto che preveda meno di 18 ore settimanali di impegno si ritiene mediamente calcolate nel corso dell'anno solare si ritiene non lo dice la legge è una conta interpretativa vedremo se poi ci sarà una qualche spiegazione successivamente magari un'interpretazione autentica del legislatore per adesso gli studiosi ritengono di interpretarlo in questa maniera le 18 ore calcolate sulla media dell'anno solare settimanale in questo caso si presume che il contratto sia co-co-co quindi che vuol dire che può essere anche uno scritto effettivamente è così vi ho detto che la forma scritta ad substantiam è richiesta soltanto per il contratto di lavoro subordinato il consiglio è quello di prevederla anche per tutti gli altri tipi di contratti quali sono le prestazioni che sono oggetto di questo contratto sono tutte le prestazioni sportive nei confronti del datore che sia un ente sportivo che può essere quindi una associazione sportiva direttantistica una società sportiva direttantistica una federazione sportiva nazionale un EPS e un DS quindi disciplina associata le federazioni e tutti gli enti affilianti a questo proposito dovranno emanare dei regolamenti in virtù dei quali vengano definite con precisione quali sono le mansioni che possono considerarsi oggetto di contratto oggetto di lavoro sportivo perché ma perché nell'ambito dell'equitazione forse ci sono delle mansioni che sono diverse da quelle della scherma allora potrebbe esserci un lavoratore sportivo previsto nell'equitazione che fa delle cose particolari proprio necessarie alla disciplina dell'equitazione e invece nella scherma potrebbe esserci un altro tipo di lavoratore sportivo ogni federazione lo sta già facendo deve individuare queste categorie qui interviene tra l'altro si parla in questo articolo del registro delle attività sportive dilettantistiche il RAS quello di cui parlava la collega è molto importante perché il RAS quando verrà implementato quando veramente funzionerà farà le veci degli uffici di collocamento sostanzialmente con l'iscrizione al RAS con la registrazione della persona del lavoratore con tutti i suoi dati e la registrazione del contratto praticamente automaticamente si salterà tutto quello che concerne la normale procedura presso l'ufficio di collocamento adesso anche addirittura il RAS emetterà emanerà automaticamente le buste pago quindi una grandissima un grandissimo aiuto si suppone anche dal punto di vista economico noi associazioni siamo estremamente preoccupati dall'aggravio di posti che tutto questo potrà comportare in termini di doverci rivolgere per forza a dei professionisti del settore bene il RAS nelle intenzioni dovrebbe aiutare a diminuire questo rischio di dover affrontare tanti tanti di questi posti attualmente però va detto ancora niente di tutto ciò e veniamo all'articolo 29 prestazioni sportive dei volontari chi sono i volontari allora i volontari lo dice la parola stessa sono quelli che non vengono pagati quindi quelli che offrono la loro competenza la loro passione mettono a disposizione il proprio tempo le proprie conoscenze sportive in favore di un ente sportivo riconosciuto sempre io non ho sottolineato questo ma lo do per scontato lo sapete stiamo parlando di enti sportivi riconosciuti qua tutto il discorso riconosciuti da chi dal CONI da sport e salute vabbè riconosciuti ok lo fanno con spirito liberale volontari assolutamente e non possono conseguire nessuna forma di reddito nemmeno indiretto cosa possono conseguire i premi e i rimborsi spese i rimborsi spese a piedi di lista soltanto se sono riguardanti trasferte quindi attività svolta fuori dal proprio paese e la propria città di residenza e quindi viaggio vitto alloggio e premi i premi che vengono ritenuti dal legislatore come non facenti parte di una contrattazione di tipo lavoristico perché soggetti all'alea di come può andare un campionato come può andare un'attività sportiva agonistica quindi il premio normalmente riguarda le attività sportive agonistiche naturalmente e non deve comportare non deve riguardare nient'altro ovviamente non è che sotto la voce premio si può pensare qualcosa che abbia a che fare con il lavoro con la retribuzione e questi vengono assoggettati ad una ritenuta alla fonte del 20% come si dice di tipo facoltativo come si dice quella cosa strana per cui si può decidere se dare su 100 che è il premio si può dare o 80% più 20 al volontario si versa come sostituto di imposta domando perché non capisco niente di queste cose oppure si dà 100 tutta quanta al percettore e comunque si versa nei 20 in questa maniera che succede che il datore il presidente dell'associazione diciamo si accolla il 20% di sua volontà giusto? questa cosa va bene a questo proposito consiglio pratico anche per i volontari sempre incarico scritto e nell'incarico scritto bisogna fare riferimento preciso a cosa deve fare il volontario e quindi deve esserci una forma di incarico che proviene o da una riunione di consiglio direttivo oppure anche da una lettera di incarico firmata dal solo presidente della società va bene uguale vi consiglio anche di fare sottoscrivere al volontario una liberatoria che liberi la società da responsabilità per danni da lui subiti nel corso della sua attività e anche per richieste di risarcimento che provengano da terzi ciò non toglie che la società però nei confronti dei volontari abbia un obbligo quello di coprirli con assicurazione assicurazione per infortuni e assicurazione per responsabilità civile ma questa assicurazione deve essere un'assicurazione specifica o va bene anche quella che è connessa al tesseramento perché nel momento in cui il volontario è un nostro tesserato e ritengo che sia opportuno che lo sia perché altrimenti poi il rapporto comincia a essere anzi forse sarebbe bene che fosse un socio più che un tesserato perché in virtù del rapporto sociale si spiega anche tutta questa no liberalità questa buona intenzione allora è anche tesserato e quindi va de plano che ci sono le assicurazioni obbligatorie e dovrebbero bastare tutte queste cose per adesso sono frutto solo di interpretazioni ecco però noi speriamo che bastimo ecco va altra cosa importantissima forse ho fatto tardissimo e lo so apprendistato articolo 30 allora è interessante è una novità assoluta viene introdotto la possibilità di stipulare contratti di apprendistato sia nel mondo sportivo dilettantistico che nel mondo sportivo professionistico perché lo si fa allora l'intenzione del legislatore qua dice nel primo proprio nel primo comma dell'articolo 30 nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti allora in realtà qui c'è stata forte l'impulso della federazione gioco calcio perché molti giovani atleti se ne andavano a giocare all'estero dove gli venivano proposte delle forme simili e molto più convenienti dal punto di vista economico di quello che si riusciva a fare in Italia in questa maniera invece si dovrebbe riuscire a tenere qui i giovani che si 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 formano quindi sono facilitati nella loro formazione di studio quindi professionale e comunque anche di studio universitario perché le forme di apprendistato previste sono due il primo livello e il terzo livello vabbè queste sono specificità comunque si può prendere sia il diploma di scuola superiore ma anche si può seguire università addirittura la pratica professionale perché l'apprendistato si può svolgere dai 15 ai 23 anni quindi solo dai 15 ai 23 anni ok nel momento in cui poi una società decida alla fine del contratto di apprendistato di stipulare un contratto di lavoro secondo le norme che abbiamo visto dovrà versare il premio di preparazione di cui ci parlerà la collega e così capirò pure io come funziona questa cosa che sono curiosa va bene allora poi vincolo sportivo ne parla la collega ok andiamo avanti allora importantissimo articolo 35 questo è un altro consiglio pratico l'articolo 35 al punto 8 quater contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia questa è davvero importante in questo momento cosa dice la clausola di salvaguardia dice che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza quindi prima del primo di luglio quindi i rapporti di lavoro sportivo attualmente in vigore quindi stipulati adesso e ancora in vigore il primo luglio non si dà luogo al recupero contributivo quindi che cosa sta succedendo allora questo è per per evitare naturalmente le vertenze e per darci un po' è l'unico modo che ci può dare un pochino di respiro se entra veramente in vigore la riforma del primo di luglio si fanno dei contratti che abbiano inizio prima del primo di luglio e che superino quel termine in maniera tale che ancora possiamo andare avanti con i compensi sportivi senza il pericolo di essere soggetti a recuperi contributivi allora vediamo un po' cosa c'era se è saltato qualcosa sì sempre nell'articolo 35 ci sono due altre cose molto importanti e cioè gli aspetti di agevolazioni fiscali che sono previsti per i lavoratori sportivi in area direttantistica e cioè l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il compito delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro cioè esiste una no tax area di 5.000 euro fino e l'altra cosa importante è che fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui il fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente quindi fino al 31 dicembre 2027 il legislatore taglia del 50% questo tipo di imposizione fiscale naturalmente questa è competenza di un fiscalista parlarvene purtroppo stasera non c'è nessuno presente in questo senso tra noi relatori va bene dunque per quanto riguarda gli amministrativi gestionali andiamo all'articolo 37 ecco diciamo che continuano ad esistere così come esistono adesso sono però lavoratori non sportivi quindi per loro non vale quel discorso delle 18 ore per loro bisognerà inquadrarli o come lavoratori subordinati o come lavoratori autonomi però a loro favore il legislatore prevede le stesse agevolazioni di cui ho parlato le agevolazioni tributarie fiscali di cui ho appena parlato quindi da questo punto di vista c'è una un favor da parte del legislatore dunque ultimo articolo 38 ultimo articolo di cui vi parlerò è davvero molto molto brevemente area del professionismo e del dilettantismo allora è qua che si dice che professionismo e dilettantismo esistono continuano ad esistere solo in quelle federazioni sportive federazioni sportive perché ovvio che negli EPS non ci può essere il professionismo quindi federazioni sportive o discipline associate per definizione gli EPS non possono già mai avere un'area professionistica quindi potranno continuare ad esistere queste due aree soltanto nell'ambito di questi enti affiglianti che entro otto mesi dalle entrate in vigore di questo decreto emaneranno un regolamento che specifichi appunto l'esistenza di quest'area del professionismo al loro interno l'area del dilettantismo è qual è allora mentre l'area del professionismo è quella dove c'è lo scopo di lucro l'area del dilettantismo vi leggo soltanto questo perché va da sé voglio dire lo conosciamo fin troppo bene comprende le associazioni e società inclusi gli enti del terzo settore che abbiamo detto possono rientrare che svolgono attività sportiva con prevalente finalità altruistica senza distinzioni tra attività agonistica didattica formativa fisica o motoria questo è il famoso articolo di cui parlava prima la collega dove sembrerebbe che il legislatore ci dica una di queste varie attività già basta per qualificare un'associazione come sportiva dilettante poi questo articolo è contraddetto da altre norme allora io mi fermerei qua e ce lo devono pure dire e no Rossella e cioè sì e che si faccio lo diranno allora se ci sarà e beh se ci sarà un rinvio dovranno pure spiegarci di che morti dobbiamo morire eh sì sì ma voglio dire è solo un'ipotesi quella del rinvio per adesso se ne parla se ne parla se ne parla però ad oggi che io sappia non c'è non ci affezioniamo a st'idea no non bisogna affezionarsi all'idea raccolgo raccolgo il testimone di Patrizia allora introduco ovviamente la collega bianco che deve parlarci di cose di cui non vedo l'ora di sentire ma io raccolgo subito il tuo testimone però volevo fare qualche così intermezzo quello che hai appena esposto in maniera assolutamente esaustiva e ti faccio complimenti perché la schematicità sembra a volte scontata ma non lo è soprattutto quando se ci troviamo di fronte davvero ad una impostazione generale settoriale non solo del lavoro sportivo ma proprio di tutto lo sport quindi noi assolutamente sì assolutamente no 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 qui non siamo per farci complimenti perché non basta mai esatto non basta mai ma adesso adesso vi rivitalizzo io perché si parlerà di cose un po' più interessanti diciamo così sull'aspetto lavoro professionistico la legge 91-81 in realtà non è stata modificata più di tanto quindi quando si parla di lavoro subordinato avevamo veramente quella legge che funzionava abbastanza bene molto chiara molto esplicita quindi quello che dicevi tu non ho ben inteso cosa volevi dire presunzione cioè si presume nel settore professionistico che c'è il lavoro subordinato per come dire le quattro federazioni professionistiche ricordiamo a noi stessi sono FIGC pallacanestro quindi calcio pallacanestro golf e ciclismo le tre federazioni ciclismo pallacanestro e gioco calcio per lo sport in quanto tale perché come dire che praticano non è possibile parlare di presunzione nel senso che loro non hanno mai non è possibile per la tipicità di questo sport avere quell'occasione unica di prestazione mentre invece per il golf probabilmente ci può essere il lavoro autonomo e il lavoro subordinato mentre invece per le altre tre che ho appena citato non è possibile pensare al lavoro autonomo questo ripeto la legge 91-81 era abbastanza chiara e non è stata assolutamente cambiata un'altra cosa carina che hai detto sull'apprendistato quello che magari la razio sottesa a questo sicuramente sì hai fatto bene accogliere questo perché la lega pro che è quella e il l'abbiamo sempre considerata come un bacino che può dare tanti spunti alle altre leghe più diciamo quelle che è la B e la A ed è anche un laboratorio e infatti il laboratorio prima che il presidente Chirelli non facesse più parte come presidente ha creato ecco questo laboratorio proprio per l'apprendistato e vedremo che cosa comporterà la razio sì è quella quanto riusciranno a evitarlo non lo so perché noi ci troviamo diciamo la parleremo un attimo poi del vincolo quindi in quella fascia di età in cui il calciatore parliamo di federazione italiana gioco calcio quindi c'è anche per la palla canestro una fattispecie simile quella fascia di età che ancora il calciatore è in quella sua qualifica giovane di serie quindi non è ancora professionista ha quelle sirene come le chiamiamo noi operatori del settore dall'estero e quindi il calciatore va a stipulare il suo primo contratto professionistico all'estero quindi per evitare che le società davvero che non riescono ancora a fare lo switch tra giovane di serie e professionista allora hanno creato effettivamente questo istituto che magari riuscirà a salvare quel patrimonio che invece viceversa perderebbero e lo perdono perché poi qui ci sarebbe da parlare facciamo un altro convegno ma questo ci impegniamo noi anche come associazione avvocati dello sport a parlare appunto di giovani tutto quello che per i giovani si può fare effettivamente questo è del lavoro dell'apprendistato è uno altre idee altre proposte davvero anche noi stessi le possiamo fare ai nostri cari legislatori ma giusto così una piccola battuta visto che mi sono lanciato da me questa cosa effettivamente quando si dice io sono d'accordissimo con quello che ha detto il Presidente Cipersi cioè d'accordo perché ahimè sì vero il legislatore siamo insomma in una repubblica e quindi le leggi sappiamo chi le fa senza stare a dire chi solo che essendo un ordinamento settoriale ci vorrebbero più specialisti più esperti ai tavoli quindi i tavoli cosiddetti tecnici sempre di più questa volta lo hanno fatto il Professor Martinelli che è stato ospite da noi nello scorso convegno è uno dei quanto l'hanno ascoltato lui si lamenta in continuazione perché poi fanno finta di creare i tavoli tecnici e poi alla fine i risultati che ci danno sono sempre poco conferenti con l'operatività e proprio per questo arriviamo subito a questo tema del vincolo sportivo è diciamo inserito nel decreto legislativo il 36 che cos'è il vincolo sportivo è quel legame indissolubile quando un atleta va a tesserarsi per una società soprattutto e un'associazione soprattutto dilettantistica dico soprattutto perché perché la vita dell'associazione dilettantistica e le entrate dell'associazione dilettantistica sono soprattutto nel momento del passaggio dell'atleta da una società ad un'altra se come appunto dal primo luglio 2023 verrà assolutamente entrerà in vigore salvo una cosa che adesso vi dico quindi l'atleta sarà libero di accasarsi dovunque esso voglia facendo perdere quella patrimonialità all'associazione dilettantistica è stato poi nei vari correttivi che ovviamente si sono succeduti per fortuna è stato fatto sì che venisse recepita piano piano questa normativa io vi parlo più del calcio perché sono molto adentrata nel settore del calcio e già l'anno scorso la federazione italiana gioco calcio ha adattato quella che è la sua normativa a queste nuove disposizioni soprattutto perché appunto il decreto legislativo dice vi consento a voi federazioni di adattare con normative transitori quindi la FIGC l'esempio è che già dal primo luglio 2023 i tesseramenti già in essere adesso chi si tessera il giovane dilettante era dall'ottavo anno fino al quattordicesimo anno di età l'anno esteso dall'ottavo anno fino al sedicesimo anno di età successivamente quindi il vincolo fino a quel momento dall'ottavo anno fino al sedicesimo anno questo c'era già e vincolo annuale successivamente al sedicesimo anno quindi al compimento nella stagione sportiva in cui il calciatore compie i sedici anni ecco che c'è il famoso ancora vincolo che però man mano che si va avanti adesso è fino al ventiquattresimo anno di età prima era fino al venticinquesimo e via via a scalare quindi avremo poi andremo a regime quando tutto questo si esaurirà ma lì andremo a finire ok chi invece si tessera già per la prima volta adesso il vincolo sportivo è annuale i commenti sono presto fatti ripeto la razza era quella esistente di salvare e salvaguardare anche come dire proprio quella patrimonialità di base e anche proprio quei settori giovanili pensiamo anche che c'è tutta quella attività proprio del solo settore giovanile scolastico parlo sempre ovviamente del calcio ma tutte le altre forme di vincolo sportivo pensiamo al nuoto ho letto che per esempio il vincolo sportivo nel nuoto sono di otto anni un altro addirittura possono arrivare fino a dieci anni del vincolo sportivo io mi sono trovata a dire la verità a prestare qualche consulenza a genitori che appunto per la palla a volo e così ma sempre per dire la nostra attività faremo un evento sul tema vincolo sportivo in campo pallavolistico perché peraltro noi oggi parliamo di tutto dello sport in generale bene come vedete i riferimenti ai singoli sport li dobbiamo ogni tanto fare perché che si è vero la generalità poi va applicata quella normativa generica alla specificità di quel settore infatti la palla a volo ha tutto un suo diciamo settore specifico in effetti soprattutto per la palla a volo queste ragazzine che volevano cambiare squadra ma banalmente proprio nella loro attività di davvero di gioco di divertimento post studio no? anche la come dire per la sua ginnastica eccetera quindi si trovano di fronte al famoso cartellino che facciamo e vengono dagli avvocati a dire ma è possibile che quindi intanto noi gli spieghiamo ai genitori cosa voglia dire che cosa si può fare si può fare ben poco e una parentesi che la guidiamo subito per le cose illecite che non si possono fare in nessun tipo di sport che spero che tra di voi non ci sia altrimenti assate la mano e voglio confrontarmi volentieri che chiedono denari ai genitori quindi questa regola così non scritta se la scrivono da sola queste se la scrivono magari purtroppo e viva Dio che ci sono questi eventi e purtroppo vedo sempre poca gente vediamo di nuovo la parentesi credono le persone che sia normale diciamo sai mi hanno chiesto mille euro duemila euro ovviamente anche lì grandi commenti da parte mia cercando di instradarli e facciamo solo del bene noi che riusciamo o loro meglio che intercettano noi esperti che possiamo dire assolutamente no non si fa è anzi un illecito non trattiamo altre tematiche che non ci non ci divertono certo che sì assolutamente sì sono le uniche sulla base di quello che stiamo dicendo sono le uniche che hanno diritto a ciò ok alla corrisponzione ma che un dirigente lasciamo perdere poi chi è che qualifica gineprai in cui non ci mettiamo che a volte non hanno nemmeno le qualifiche idonee insomma cotesserati ok quindi gineprai importanti ripeto non parlo solo del calcio anzi questo devo dire onestamente più negli altri settori della pallavolo sicuro quindi assolutamente no ecco questo sul vincolo sportivo c'è da dire poco a meno che non mi facciate veramente delle domande ahimè decade quindi bisogna cosa bisogna fare beh è tutto anche un de jure condendo perché come abbiamo detto prima forse ci dobbiamo ritrovare settembre è troppo poco anno fine anno e metà dell'anno che entrerà diciamo dove noi potremmo fare un po' di bilancio per capire dove stiamo andando perché io credo poi che di tutte le disposizioni normative in termini applicativi bisognerà vedere però la strada è questa non ci illudiamo come al solito a rinvi le cose tant'è che appunto le federazioni già si stanno attrezzando sicuramente per fare delle disposizioni transitorie e consentire ecco di sostituire se vogliamo quell'idea che avevo di patrimonio di patrimonializzazione in altre direzioni è una novità e quindi come tale bisogna necessariamente prenderne atto se avete delle domande sul vincolo altrimenti passo all'altro argomento sugli agenti sportivi così vi faccio divertire un pochettino perché per complicare un po' le cose il nostro caro legislatore con il decreto legislativo 37 si è voluto occupare anche degli agenti sportivi ma perché si è voluto occupare degli agenti sportivi perché in realtà con la legge di bilancio del 2017 all'articolo 1 comma 373 veniva per la prima volta introdotta la figura dell'agente sportivo professione quindi regolamentata non possono fare un po' di storia prima di questo evento che effettivamente è un po' epocale per quanto ci riguarda questa figura chiamatela procuratore sportivo agente di calciatori è uguale era regolata esclusivamente dalla federazione italiana gioco calcio ovvero dalla federazione pallacanestro parliamo sempre appunto di sport professionistici mentre invece nella pallavolo per quanto come dire è uno sport dove gli agenti ci sono esistono mi sono imbattuta anche in queste categorie però non era regolamentata lo è stato per la lega di serie A maschile ma comunque per un po' di tempo c'è stato un regolamento ma poi no ma il calcio è quello che la fa sempre da padrone soprattutto in questa categoria quindi ci sono succedute tutta una serie di regolamentazioni fino al 2015 quando la FIFA che è l'organismo internazionale sovranazionale quindi sta a capo al vertice gerarchicamente nella piramide delle istituzioni calcistiche decide con il presidente allora Blatter che si chiamava di non occuparsi più della professione fino a quel momento l'accesso alla professione di procuratore agente che dir si voglia era diciamo poteva essere svolta questa professione non professione ma insomma questa attività questa attività meglio dire con il superamento di un esame esame che si svolgeva in FIGC con le domande poi della FIFA e quindi la qualifica poi cominciava essere quella di agente FIFA quindi che cosa voleva dire che il procuratore di turno poteva svolgere la sua attività in tutto il mondo nel 2015 Blatter dice no non mi interessa tolgo le licenze ciascuna federazione libera di fare quello che vuole inutile un po' dire digredire sull'argomento noi in Italia abbiamo assolutamente accolto questa deregulation come l'hanno chiamata e quindi chiunque anche voi tutti qui in sala stava a pagare una FI una tassa amministrativa e ci si poteva scrivere a registro e senza alcuna competenza evidentemente oltre a tutto il resto si poteva esercitare questa professione questo è durato fino appunto come stavo dicendo prima la legge di bilancio del 2017 quindi professione regolamentata effettivamente è stato reinserito l'esame doppia prova sia al CONI che alla federazione professionistica che poi si sceglie se ne posso scegliere tutte e quattro c'è nessun problema e il decreto legislativo 37 riprende tutto questo quindi intanto se ne occupa il legislatore nazionale in quanto c'era già questo precedente quindi era già stata inserita ma non che la complica a dire la verità però siccome come al solito in Italia non è che si prese banalmente noi avvocati che facciamo oggi io per preparare questa relazione nonostante sono tematiche che come dire pratico tutti i giorni però mi sono fatto uno schemino mi sono andata a vedere le cose no eh non ce la fanno perché ripeto esiste già la legge hanno emesso anche da lì dal 2018 fino ad oggi non voglio ricordare male ma tre regolamenti sicuri sia il CONI che la FIGC ma forse anche quattro non sbaglio bastava anche accortarli in modo tale che chi poi ripeto opera nel settore non si mangia la testa ai nostri clienti a tutti insomma chi vuole come dire avere la nostra consulenza dire no aspetta un attimo che forse mi sta sfuggendo qualcosa perché in teoria nella stragrande maggioranza è uguale però c'è qualcosina che e arrivo subito alla staffetta della Patrizia il lavoratore sportivo bene l'agente sportivo oggi come oggi oggi nel senso con il direttore legislativo 37 può prendere l'incarico dal lavoratore sportivo chi è il lavoratore sportivo ce lo ricorda Patrizia quando ci ha detto chi sono i lavoratori sportivi chi c'è tra i lavoratori sportivi mi sembra di aver letto il direttore di gara voi potete immaginare che cosa io sono un procuratore il decreto legislativo cosa dice che posso prendere il mandato da un direttore di gara se profondo voi è plausibile che il procuratore sportivo l'agente sportivo possa prendere un incarico o un mandato da un direttore di gara per definizione ma non solo per definizione per la qualifica cioè per la natura del direttore di gara per quello che lui stesso vuoi dire rappresenta e per quello che rappresenta il procuratore sportivo ciò non può sussistere quindi questa è una gravità alla quale metteranno le mani prima o poi credo come al solito interverranno però è una delle criticità davvero operative perché come hai detto tu prima magari del compenso cioè se non abbiamo la chiarezza ecco e se non c'è una disposizione normativa è sbagliata ma andiamo poi ad intervenire noi come ogni singola federazione che deve fare i conti possiamo trovarci in problematiche di carattere interpretativo non di poco conto comunque rimaniamo che in realtà poi la gente va semplicemente dagli atleti oggi il procuratore sportivo con il decreto legislativo 37 può prendere l'incarico anche dagli allenatori fino a questo momento parlo soprattutto del calcio questo era anche non era vietato in maniera espressa dalla FIFA ma non era compreso nelle categorie non di lavoratori ma di atleti di persone appartenenti al mondo del calcio che potevano avere un procuratore anche questo la razio la potete ben capire perché come dire l'allenatore che ha un agente questo nelle cronache penso che lo ritrovate il procuratore di un allenatore di una squadra di serie A che magari ha anche in quella stessa squadra 3, 4 per non dire 5 atleti può comportare un'incisività diversa o meno e creare anche delle accredini non è anzi è all'ordine del giorno non faccio nomi ma voi potreste magari seguite il calcio giocato più di me potete capire a chi mi riferisco non è un anno però effettivamente adesso glielo consentono la federazione del gioco calcio anche lì non lo ha mai vietato ok quindi Ubilex Boliv c'è Brocardo latino non lo ha mai vietato e c'era sempre questo limbo si si può non si può oggi essendo lavoratore sportivo anche l'allenatore il procuratore sportivo può ai sensi del legislativo assumere l'incarico nell'espletamento diciamo allora intanto come si arriva brevemente quindi abbiamo detto io voglio fare il procuratore sportivo devo sostenere l'esame prova generale al CONI prova speciale presso le federazioni una volta superato l'esame al CONI si va si sceglie la federazione specialistica diciamo così tra le quattro federazioni professionistiche una volta ottenuto anche superato anche l'esame alla federazione professionistica con i certificati ci si iscrive in federazione consigli molto pratici si iscrive prima alla FIGC si ottiene il certificato c'è un costo da sostenere attualmente sono 500 euro per la FIGC e 500 euro al CONI e una marca da bollo di 250 euro al CONI quindi sono 1.250 per poter esercitare è chiaro che una cosa importantissima da dire è che i contratti di mandato sottoscritti con chi non è agente iscritto non solo sono nulli passibili poi chiaramente di sanzioni disciplinari e chi non è agente chi non appunto non è iscritto quindi non è non entra a far parte dell'ordinamento giuridico comunque viene travolto da un provvedimento disciplinare e c'è un cosiddetto libro nero che sono le annotazioni quindi chi ha svolto l'attività senza essere agente viene annotato e credo non mi ricordo esattamente quanti anni non può sostenere gli esami quindi nel momento in cui vuole deve passare credo un triennio mi sembra però non ne sono convinta quindi c'è questo margine in cui non può svolgere attività quindi una volta superate questo quindi si riscrive perfetto possiamo andare dal nostro cliente e prendere il mandato che è un contratto di mandato sportivo e qui la forma scritta è appena di nullità altro che substanza ma ha anche come dire deve essere rispettato il modulo standard che viene erogato e messo a disposizione dalle federazioni anche questo appena di nullità c'è anche un periodo temporale addirittura in cui di esempi aneddoti ne potrei raccontare veramente mille anche questo facciamo un altro convegno magari carino per dire le cose pratiche soprattutto ai ragazzi che ci stanno ascoltando c'è un limite temporale la FIGC sulla base appunto delle esperienze ha visto che spesso anche lì magari nel rapporto diceva sai comunque il nostro mandato scade fra sei mesi però dai rinnoviamo adesso così almeno quindi si accaparrono sempre prima come dire le volontà che possono essere magari poi dopo cambiate nel corso diciamo dei mesi e per evitare tutto questo quando si scarica il modulo sul sito della federazione c'è proprio un limite temporale che è appunto quello di due mesi si deve utilizzare nell'arco dei due mesi altrimenti decade quindi anche questa è una cosa che la gente non sa fa firmare fogli così in bianco senza essere consapevoli di quello che sta facendo il modulo è semplicemente come dire si può integrare con tante clausole ma la condizione del decreto legislativo 37 per la loro validità sono le generalità l'oggetto quindi il nome dell'agente il nome del calciatore ovvero della società ovvero anche di entrambi perché anche il decreto legislativo 37 riprendendo quello che era già entrato in vigore ci dice che l'agente sportivo può assumere l'incarico non solo da uno delle due parti ma anche da tutte e due quindi anche questo è frutto di tutta una serie di casistiche che negli anni si sono succedute dinanzi agli organi disciplinari quindi procura federale interessato eccetera perché nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale dell'agente accadeva che il socio assumeva l'incarico dal calciatore e l'altro socio da parte della società quindi come dire anche lì non c'era molta trasparenza una volta che si è capito che il conflitto di interessi si può effettivamente bypassare con la trasparenza a noi pure succede quando dobbiamo assistere per una separazione dracconici possono darci un incarico ma come dire lo sanno sono consapevoli entrambi e quando ci danno l'incarico sanno che siamo l'unico avvocato che in questo caso l'agente sportivo quindi può assumere l'incarico sia dalla società di calcio che dal di calcio con la canestro non ripetiamo come dire le declinazioni sportive quindi sia dalla società che dall'atleta quindi in questo caso non si è in conflitto di interessi il decreto legislativo parla molto si sofferma e come dire lo esplicita bene che cosa vuol dire conflitto di interessi conflitto di interessi nell'accezione vietata e quando ci troviamo di fronte io agente sportivo ad esempio il coniuge o il parente del secondo grado che è un direttore sportivo o presidente ovvero avere anche una semplice partecipazione anche indiretta in una società di calcio anche lì Razio la potete ben comprendere sempre per storie molto note il 2006 è stata quella non solo Calciopoli ma ci fu anche tutto il discorso con Gea Moggi eccetera sono nomi che più o meno voi conoscete quindi in quel momento lì si capì per quanto poi dopo le realtà non è che si siano definitivamente non hanno cessato di esistere quelle situazioni lì magari erano molto più evidenti molta incisività appunto della gente quando il padre fa il direttore sportivo addirittura ricordo che c'è stato un momento in cui Marcello Lippi era l'allenatore della nazionale e il figlio fa il procuratore sportivo dovette o si sospendeva il figlio oppure sospendevano il mistero come cosa nazionale e quindi questo è perché anche oggi diciamo la legge dello Stato che ha disciplinato delegando il CONI a emanare i regolamenti oggi anche abbiamo questo famoso decreto legislativo le cose più interessanti da dire sono che chiaramente nel momento in cui ci troviamo di fronte a un conflitto di interessi bisogna perché bisogna astenersi in quanto l'agente sportivo nonostante per definizione non sia un tesserato quindi non è un tesserato della federazione che cosa vuol dire essere tesserati quali conseguenze all'essere tesserato vuol dire assoggettarsi e rispettare per definizione di tesserato non solo lo statuto delle federazioni ma tutte qualsivoglia norme che come dire a cui è vincolato quel tipo di sport nonostante non abbia quindi la qualifera di tesserato però c'è una disposizione che dice che devono necessariamente osservare e rispettare le norme FIFA CONI UEFA quindi anche lealtà probità che sono i principi cardine di uno sportivo e di un tesserato quindi quando c'è il conflitto di interessi come tutte le altre situazioni in cui un tesserato appunto viene citato dinanzi alla giustizia sportiva la lealtà e la probità l'abbiamo visto adesso con il caso di Ventus anche questa è una cosa abbastanza pubblica è un principio che viene il primo a cui viene accepito diciamo la condotta che cosa vi posso dire altro di interessante molto importante anche in questa categoria evitare che ci sia la cosiddetta third owner party vale a dire una interessenza e un interesse che non sia solo al trasferimento perché è chiaro nell'espletamento della funzione diciamo dell'agente sportiva che cosa qual è l'attività o diciamo scusate l'assistenza per la stipula del contratto professionistico o la risoluzione dello stesso o il trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore quindi posso assistere il calciatore o la società o entrambi ad esempio nel momento del trasferimento che cose che si deve evitare e questo il 37 lo dice anche in maniera esplicita si deve evitare che io abbia delle interferenze importanti come proprietà come se io fossi proprietario anche solo il 50% ma il 20% è famoso in gergo si dice del cartellino del calciatore questo si deve evitare e c'è una disposizione anche di vieto assoluto dalla FIFA anche lì perché chiaramente se io ho comprato il cartellino mi piace poco questa definizione ma è usuale tipo un sudamericano in genere è regolamentato anche l'acquisto del tesseramento di una posizione di tesseramento da parte di un privato come stavamo dicendo prima i premi possono essere dati solo alle società in questo caso uguale quindi il titolare del tesseramento il titolare di quel contratto di prestazioni sportive è sempre il club professionistico in questo caso ovvero il tantistico ma insomma parliamo di professionismo quindi l'agente sportivo spesso va e dice ok io vorrei per agevolare il tuo trasferimento ti do X e ottengo e fanno dei patti veri e propri in cui io sono proprietario del 20% oltre entro quello che è del tuo cartellino e ahimè che cosa succede che cosa è successo anche diciamo in Italia che quella gente va a reclamare e non è semplicemente il portatore di interesse di quel trasferimento ma va a reclamare proprio quel 20% quindi il proprietà se lui se lui è sempre detentore di questo 20% la società che per cui è stato il giocatore vuole vendere quel calciatore lì e in realtà ha un altro ha un socio privato e dice scusa io lo voglio vendere a un milione di euro e no mi dispiace perché lui sul milione guadagna in 200 se lo vende a 5 ne guadagna diversamente se ti è problema come matematica quindi anche questo è da evitare lo dice espressamente diciamo questa normativa anche questo tante volte lo diamo per scontato ma assolutamente scontato non è perché ne ho visti veramente di ogni le incompatibilità non può esercitare la professione di agente sportivo chi è dipendente della pubblica amministrazione chi ovviamente fa parte delle società chi fa parte dell'UEFA della FIFA questo è abbastanza diciamo scontato davvero pensarlo oppure gli atleti stessi gli atleti che però sono desterati per quella federazione per cui hanno preso diciamo la licenza quindi normalmente un calciatore volendo anche lì è così strano però un calciatore volendo può prendere la qualifica e poi esercitare la diregente per un altro settore professionistico lo dice il decreto legislativo del 37 sarà così molto importante anche e riprende la normativa di cui vi ho parlato prima la tutela dei minori allora su questo effettivamente è molto molto importante perché anche questo si pensano tante cose ma poi nell'evidenza dei fatti non è così il minore non può intanto essere fonte di alcun di alcun compenso quindi se io posso io agente firmare un mandato con un minorenne evidentemente con la firma di entrambi i genitori questo ai sensi delle norme civilistiche non avendo diciamo ancora la possibilità ma non posso io agente di calciatori prendere alcun compenso per questo genere di attività a presto per questo genere di attività quindi diventa un po' un problema perché ci sono tantissimi atleti chiaramente di minorenni che sono già in orbita professionistica però purtroppo con questo divieto devono semplicemente rimandare i loro i loro corrispettivi e questo perché risponde a una questione di etica e perché il sedicenne può stipulare il suo primo contratto professionistico quindi troviamo un po' una sorta di incoerenza se possiamo perché tanti si lamentano ovviamente che il sedicenne può firmare al di là del fatto del lavoro sportivo che ovviamente poi dopo sappiamo essere dal quattordicesimo anno di età cioè si può diventare lavoratore sportivo si dal quattordicesimo anno di età quindi anche lì e mi sta venendo in mente adesso mentre ve ne parlo se io agente sportivo posso assumere un incarico dal lavoratore sportivo che può essere dal quattordicesimo anno di età non vedo perché o a meglio deve essere detta in maniera più precipua che per alcuni sport evidentemente magari non posso però altra diciamo discrasia quindi anche la tutela dei minori è un aspetto molto molto importante l'esercizio dell'attività può essere sia in forma individuale che in forma imprenditoriale ci sono tanti paletti quindi in questa federazione è molto molto attenta perché è chiaro che possono anche così costituire delle società con soggetti che devono avere sempre una specchiata reputazione però consente appunto di svolgerlo imprenditorialmente anche qui c'è grande confusione perché voglio dirlo in maniera banale cioè la licenza viene data viene rilasciata alla persona fisica proprio due giorni fa una persona dice no sai il mandato è tra la società e il calciatore o la società no nel senso che tu tu che hai la licenza tuo agente sportivo che hai la licenza eserciti la tua attività imprenditorialmente quindi quando stipuli il contratto di mandato lo dice pure là sopra è la società è l'agente in persona in quale è il legale rappresentante di quella società infatti uno dei paletti della normativa è che il legale rappresentante deve essere l'agente sportivo i soci devono essere agenti sportivi che esercitano un'attività evidentemente perché tutto quello che abbiamo detto finora può esserci un socio non agente però con sole responsabilità di carattere amministrativo quindi probabilmente il segretario può essere socio ma avere tutt'altra diciamo mansione non può esercitare anche questo c'è una disciplina transitoria secondo quello che dice il 37 nel senso che l'articolo 1 ripeto riporta pedisseguamente però lo dice la normativa l'articolo 1 comma 373 che è stato il primo a aprire la pista di questo è già entrato in vigore il primo gennaio 2023 cessa quindi di esistere quel famoso comma quindi adesso siamo già a pieno regime nell'ambito dell'attività degli agenti sportivi siamo già a regime per complicare il tutto e chiudo c'è stato adesso l'introduzione nel marzo di quest'anno del regolamento internazionale della FIFA quindi la FIFA ha di nuovo avvocato a sé la normativa al profilo internazionale introducendo nuovamente quindi l'esame l'esame che si tiene con delega presso ogni federazione di ciascun paese quindi adesso le federazioni dove non è previsto l'esame che è parentesi l'esame e la licenza delle federazioni è soltanto per l'Italia e la Francia quindi le professioni regolamentate sono solo Francia e Italia intervenendo la FIFA fa sì che tutte le altre federazioni che appunto non avevano previsto l'esame conseguono almeno ci sia un deterrente rispetto alla deregulation di prima e superi un esame che è molto templice rispetto alla prova generale noi che abbiamo del CONI e anche in Francia mi dicono che non è facile comunque una volta superato quello poi puoi esercitare in realtà c'è un altro istituto che è stato inserito sia nel comma 1 e adesso nel 37 i cosiddetti agenti stabiliti e gli agenti domiciliati chi sono gli agenti stabiliti gli agenti stabiliti sono i cittadini dell'Unione Europea che hanno ottenuto una licenza più o meno equipollente a quella italiana e come vi ho detto prima è solo la Francia quindi se noi abbiamo un agente francese che vuole esercitare l'attività in Italia e quindi che deve fare un trasferimento in Italia tranquillamente fa semplicemente porta il suo documento e dice io sono licenziato dalla Francia nulla a questo tutte le altre federazioni devono avere possono meglio chiedere le cosiddette misure compensative che sono degli esami attitudinali ovvero una diciamo svolgono una loro attività assieme a un altro procuratore che rilascia poi delle certificazioni quindi solo in questa maniera si possono iscrivere regolarmente in Italia cosa comporta questo che se io vado al Sassuolo che sto diciamo trasferendo un calciatore che è svizzero e voglio portarlo al Sassuolo il Sassuolo non mi corrisponde e non mi potrà mai corrispondere quindi io non potrò mai prendere un mandato da quella società e avere dei corrispettivi se non sono iscritto regolarmente in Italia ed ecco perché c'è stato tutto questo fermento gli agenti invece domiciliati sono quelli che appartengono ad altre nazioni extra Europa e quindi anche questi devono no anche loro per esercitare in Italia dovevano domiciliarsi un istituto della domiciliazione quindi trovano un agente regolarmente iscritto e si domiciliano la diatriba che poi si è conclusa da poco appunto poi con quella dell'agente FIFA è che che cosa si faceva è fatta la legge e trovato l'inganno no come si può dire allora siccome la normativa diceva che tutti i cittadini nell'Unione Europea quindi anche l'Italia che l'Italia fa parte dell'Unione Europea fino a proprio contrario quindi che cosa hanno fatto gli italiani che non volevano superare l'esame cosa facevano sono andati in Spagna dove c'era un'interview semplicemente un giorno lei cosa fa nella vita eccetera quindi prendevano questa licenza e con quella si iscrivevano come stabiliti in Italia c'è stato un po' di fermento denuncia di qua e di là e quindi finalmente come dire anche sempre per quello che stavamo dicendo prima fa poco alle volte quindi è stato corretto questa cosa quindi è stato corretto e si dice chi non è residente da almeno un anno in quello stato in cui dice di aver ottenuto la licenza e non ha espletato due mandati nell'arco di quell'anno non può domiciliarsi e quindi hanno messo uno sbarramento idem con l'esame di agente FIFA se io ottengo la qualifica di agente FIFA per svolgere regolarmente le attività in Italia devo sempre avvalermi del cosiddetto istituto della domiciliazione guardate tutti lì mi spiegate il motivo c'è qualche domanda che vogliono farmi che è tardi ah ok è con il sattiglio che stiamo andando oltre dici io ho finito comunque perché ah ok 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 no prego siccome vi vedevo che no pensavo che c'era qualcuno che voleva fare le domande quindi questo è giusto il closing per dire che insomma questa è una figura che oggi in Italia è regolamentata quindi chi non è iscritto è passibile anche di l'articolo che sia il codice penale quindi l'esercizio abusivo della professione oggi possiamo dirlo lo è compreso qui nel 37 in realtà no però nel regolamento CONI e nel regolamento della FIGC quindi bisogna veramente stare molto attenti noi abbiamo concluso le nostre relazioni grazie ci facciamo gli applausi da soli se avete curiosità siamo qua altrimenti diciamo che possiamo concludere questa seduta grazie grazie grazie